Alle fiere come il C.S. si parla molto di domotica, ma è sempre difficile riuscire a farsi un'idea precisa di come i prodotti potranno poi integrarsi realmente all'interno di un'abitazione. Eventi come la Design Week aiutano in questi frangenti, permettendo installazioni che coniugano tecnologia e design. Ma come rende evidente il nome, spesso si tratta di installazioni che durano solo 7 giorni. Biticino ha invece deciso di prolungare il suo Living Now Apartment presentato in occasione della Design Week. Dal 27 maggio, collegandosi al sito biticino.it, si potrà prenotare una visita all'appartamento nella sede di Archiproducts Milano in via Tortona 31. Abbiamo potuto visitare l'appartamento e vedere dal vivo all'opera le soluzioni Living Now connesse. Queste ultime si indirizzano al mercato delle ristrutturazioni, quello in cui al momento Biticino vede le maggiori possibilità di crescita per la domotica connessa. Biticino infatti ha anche la proposta My Home Up, basata sul sistema a bus, che però è decisamente più indicata alle nuove costruzioni. Living Now è invece un sistema che può essere integrato facilmente all'interno degli impianti esistenti. Rispetto all'impianto tradizionale elettromeccanico, richiede infatti solo l'installazione di un gateway in una scatoletta a portata di Wi-Fi. E poi la sostituzione dei comandi elettromeccanici con quelli elettronici connessi, che necessitano solo di fase neutro per funzionare. I nuovi comandi aggiungono a quelli fisici la possibilità di controllo tramite comandi wireless, app e anche la compatibilità con i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Siri. Il gateway è fornito in kit con un comando con i scenari di entrata in casa e di uscita dall'appartamento, che possono essere poi configurati dall'app per spegnere le luce, chiudere le tende e viceversa. Il comando è wireless e alimentato a batteria, per cui non richiede l'installazione di una nuova scatoletta all'ingresso dove lo si vuole posizionare. È disponibile poi opzionale anche il comando notte-giorno, sempre personalizzabile via app. Il sistema connesso può essere utilizzato anche su linee deviate e invertite. Nell'installazione di questo tipo di impianti a due o tre comandi, non serve che tutti i comandi siano del tipo connesso. Dall'app è poi possibile raggruppare diversi comandi in zone, come ad esempio tende e luci della camera o del salotto, utilizzando le skill degli assistenti vocali e poi è possibile inserire i comandi wireless e gli scenari all'interno delle routine. Gli interruttori sono declinati in diverse versioni di placche e comandi, dal monocolore bianco, nero e sappia, alle combinazioni con plastica lucida, metallo a vista e legno.